L'ho ribadito, l'ho detto tante volte, che la Vitervese ha un organico importante, un organico che vale ai primi 5 in classica, che secondo me è una squadra che ha qualità e probabilmente ha pagato forse l'ultima mezz'ora dove forse avevamo più d'amba noi. E questo è merito dei ragazzi, perché si stiamo allenando bene, stiamo facendo le cose con la giusta progressione, è una vittoria che credo sia meritata per quello che è stato il percorso di questa partita. Secondo me abbiamo interpretato male la partita, che avevamo quei 5 metri più bassi alle parte e facevamo fatica perché ci balleggiavano e ci facevano andare a vuoto girando per il campo, nel primo e secondo tempo abbiamo messo a posto questa cosa e l'altra cosa che dobbiamo mettere a posto è che secondo me nei duelli per noi offensivi, per loro difensivi, secondo me là davanti dovevamo arrivare più velocemente alle punte, lo abbiamo fatto ed è cambiato un po' il film della partita, questa è stata quella chiave. Fortunatamente ha portato i tre punti, ma è frutto che ci abbiamo creduto fino alla fine, è frutto che questa squadra cresce settimana dopo settimana, sia a livello di gioco che di consapevolezza e stiamo seguendo un percorso che ci sta portando ottimi risultati e tutto questo attraverso il lavoro settimanale. C'eravamo già prima, soltanto che, ripeto, siamo partiti per ultimi, sempre le stesse cose, squadra molto giovane, un ambiente di lavoro diverso e quindi ci vuole riusciare la testa e essere concentrati e c'è da seguire un percorso e quindi questo percorso alla fine ti sta portando dei frutti piano piano e con il giusto tempo che ci vuole. Diciamo che io ogni anno cerco di fare così, al massimo, per me non è una novità sull'applicazione perché cerco, questo sono io, a volte si fa bene, a volte si fa peggio, però fortunatamente la squadra sta facendo bene e questa è la cosa più importante. Questo io si ha i mezzi, vengono messi in luce attraverso il lavoro che facciamo durante la settimana e ci sono ampi margini di miglioramento, secondo me, e cercheremo, non abbiamo fatto nulla, sono tre punti in più, tre punti importanti per carità, ma non abbiamo fatto nulla, quindi bisogna guardare già la prossima partita. Affermo, che è altrettanto difficile, questo ormai è già archiviato e si va avanti. È una squadra che secondo me non merita i punti che ha in classifica perché ha simboli, è una squadra molto importante, quindi ci sta che ti possano prendere qualche volta, non ci siamo demoralizzati, abbiamo fatto di tutto per vincere, alla fine siamo stati pagati, quindi l'atteggiamento è quello giusto, c'è soltanto da continuare così. Come gruppo siamo sempre stati uniti, quindi anche nei momenti di difficoltà, quindi nelle vittorie ancora di più. Sono contento e la squadra la stia ingranando e dobbiamo continuare su questa strada. Grazie. Grazie. Grazie.